in piedi con le gambe leggermente piegate le mani lungo i fianchi piego il braccio fino a toccare la spalla e torno alla posizione di partenza ripeto per sette volte poi faccio la stessa cosa con l'altro braccio ripeto per sette volte in piedi con le gambe leggermente piegate e mani lungo i fianchi piego il braccio fino a toccare la spalla poi porto il braccio verso fuori con i gomiti a 90 gradi e sollevo il braccio verso l'alto ripeto l'esercizio per sette volte ripeto per sette volte ripeto per sette volte in piedi con le gambe leggermente piegate con il gomito a 90 gradi sollevo il braccio lateralmente arrivando fino all'altezza della spalla e poi torno alla posizione di partenza ripeto l'esercizio per 8 volte e poi lo faccio con l'altro braccio ripeto l'esercizio per 8 volte in piedi con le gambe leggermente piegate con i gomiti in linea con le spalle verso l'esterno unisco centralmente le braccia e torno alla posizione di partenza ripeto l'esercizio per 15 volte in piedi con le gambe leggermente piegate porto le braccia in alto e in basso dietro la schiena e ripeto l'esercizio per 10 volte l'esercizio può essere fatto anche senza pesi il amico parto le gambe leggermente piegate e vi che l'esercizio Grazie a tutti.